Cosa significa Teramo per te? Per me Teramo è, si può dire, un sogno perché arrivare in Serie B è quello che ho sempre sognato da bambino e sono molto contento. Sai che c'è una situazione in questo momento complicata, un po' difficile, però sei sicuro che si risolverà? Sì, io penso che questa situazione verrà risolta, come anche il Presidente, penso che non ci siano problemi, penso che vada tutto a buon fine e dai, speriamo di iniziare al più presto. Sei il primo acquisto del Teramo in Serie B, ha un sapore particolare questa cosa? Sì, sono contento, anche perché avevo altre richieste, però questa qui di Teramo è quella che mi ha garbato più di tutti, infatti sono molto contento, anche visto la società è molto partecipe a questa cosa, sono contento dai. Da Toscano è la prima volta che esci fuori dalla tua regione? Sì, sarà il primo anno che gioco fuori casa e niente, però insomma per la Serie B si fa questo e questo è altro. Presentati ai tifosi, caratteristiche tecniche, dove ti piace giocare, con quale modulo? Ma io sono un modulo 3-5-2 come penso che giochi il mister. Quindi adattissimo per Vivarini? Sì, come due anni che ho giocato a Ponte d'Era, ho fatto il vertice basso in questa ultima parte di campionato, però sono più una mezz'ala io via. Con Vivarini hai parlato? Al momento no, ho parlato solo con il presidente e il direttore. Ti hanno chiesto cosa? Mi hanno chiesto se ero molto carico e gli ho detto di sì, non vedo l'ora di iniziare. Contratto, biennale, triennale? Tre anni di contratto. Quindi stai tranquillo? Sì, tranquillo, nel senso che devo dimostrare ora. Tre anni sono tanti, infatti devo dimostrare che tre anni non sono pochi e devo far vedere che non me l'hanno fatto tanto per farmeli. Cos'è che ti sei prefissato? Quando hai accettato il Teramo è la prima cosa che hai pensato? Ho accettato il Teramo perché ho visto il direttore che sapeva bene le mie caratteristiche, che insomma mi conosceva bene e ho preferito venire qua. Poi il mister col modulo che giocava mi sembra un ambiente adatto alle mie caratteristiche e penso di poter far bene anche qua. Contento quanto? Da 1 a 10, 100.